E' questo ragazzo, un ragazzo che ha vinto da sei giorni, un ragazzo speciale nella correttezza e nel professionismo, Michele Scantezzini, avrà l'onore, un applauso meritatissimo, avrà l'onore e l'onore di guidare in pista per la prima volta un uomo che ha vestito diverse volte la maglia rosa, esce del Tour de France, campione olimpico, campione del mondo, record del mondo, la gloria d'Italia, signori facciamogli sentire perché è il live streaming, arriva Filippo Ganna! Eccoci tanto in pista della prossima eliminazione, 49, 49, Varvig, South Africa, Varvig, Varvig, e eliminate, metà South Africa no, è stato eliminato a questo passaggio, ci stiamo avviando verso le ultime tornate, Stegra, Premia, Rosti, ha fatto ancora quattro giri da disputare, con l'eliminazione per il sesto posto, Quarantur, eliminato il numero 41, Scantezzini, eliminato il numero 41, Michele Scantezzini, andate abbiamo in pista, Paglianes, Hicke, Nolega, Stanisenski e Denisi, questi sono i corridori rimasti in pista per quanto riguarda queste ultime tornate di Gran Premio Rosti, eliminato il numero 15, Fittin, Kevin Dink, Germania, Stegra, eliminato, quindi rimangono in pista, Pagliare, Spagna, Nolega, Italia, Stanisenski, Polonia, Denisi, Svizzera, questi sono i corridori rimasti in pista, Stanisenski e Pagliare si occupano le prime due posizioni, attenzione all'eliminazione, si va per la quarta posizione, il Presidente Denisi, lo Svizzero di Colomenisi che va a classificarsi quindi al quarto posto, ci sarà ora, siamo ora con le posizioni del podio, Pagliare, Stanisenski, Don Legato, si sta rialzando e attendiamo comunque il passaggio con Pagliare e Stanisenski che rimangono al comando in queste fasi di posta, infatti c'è l'ultimo giro per Pagliare e Stanisenski, mentre Matteo Donegato, Pagliare si chiede in terza posizione, gli applausi per Matteo Donegato in questa prova per Pagliare, intanto Pagliare si testa, Stanisenski è in seconda posizione, lo spetta per il primo e secondo posto con Marcel Pagliare in seconda posizione, Stanisenski che va ad allungare, come abbiamo detto è stato protagonista per la serata di ieri, e il popolo è detto anche questa sera, dalle sfasi che si stanno giocando per la parola dell'inizio davanti a Marcel Pagliare. Sarà Romeo Vandolfi, il sitaco di Ferenzola, a pregare i primi tre classificati di questa prova, eccoli che stanno raggiungendo proprio la zona di fronte al Paico e in terza posizione si è classificato Matteo Donegato, Italia. La medaglia e il mazzo di Fiori appunto per la venda che ha chiuso in terza posizione al secondo posto, Marcel Pagliare in Spagna. Complimenti del primo cittadino di Ferenzola e proprio come nella serata di ieri si giudica un'altra gara di classe 1, in questo caso la prova a deliberazione, Daniel Stanisenski, Polona, vince il gran premio Borowski. La medaglia appunto ci sarà anche la consegna di Fiorezzo, che è la mascotte della 6 giorni delle rose, che è lo sfumante della tenuta in rintopro di Diego Terzoli. Questi sono i primi tre classificati dei gran premio Borowski della prova di eliminazione della seconda serata alla 6 giorni delle rose, Daniel Stanisenski, Polona, Marcel Pagliare, Spagna, Matteo Donega, Italia. Grazie.